Un po' mi ingrassato, devo dire che è il microfono che mi ingrassa un po' e teoricamente diciamo per avere una costruzione ottimale e quindi riuscire a minacciare perfettamente il proprio peso sui piedi bisognerebbe che il proprio peso corporeo sia equamente distribuito sui quattro punti, quindi andiamo un po' se ci riusciamo eh, non è proprio facile, se qualcuno vuole provare lo scopi la creme, vuole una passeggiata difficilmente saranno, giustamente, c'è Davo, finiamo provare no, se qualcuno vuole divertirsi grazie 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 grazie